A quella parrenza, numero 2-2-2 Andrei già recuperato il primo campo alla volta di Davide, anzi titolino della bagna cerca il gruppo di sinistra, c'è la rifronto e la porta dalla parte opposta e quindi è Davide, si appena entra nell'arca postale con l'aiuto di domino 30 secondi Eccola, sono a disposizione tutte, quindi sono pronti per la misura e sono in testi e chiudo 47-08 Grazie a tutti.